Sono Stefano Puccinelli, coreografo e creatore della performance che presenteremo a Luca Biennale, che è Watching the Void. Sono direttore del centro di formazione e produzione danza Dance Mod Chaos Dance Project. La performance che presentiamo quest'anno a Luca Biennale si collega a quello che è il tema principale di Luca Biennale, che è la pagina bianca. Watching the Void va a focalizzare quell'attimo che precede la decisione nel dover partire per realizzare qualcosa. Quindi questa pagina bianca è questo momento in cui abbiamo il timore, in qualunque azione si vada a intraprendere, di partire. L'attimo prima in cui si deve uccidere quel vuoto mentale per poter iniziare qualunque tipo di attività o di azione. È interessante andare a vedere il gioco della parte fisica per andare a spiegare questa cosa, che non è didascalico. Le azioni coreografiche non saranno didascaliche, ma possono apparire astratte. Vi invito a venire a vedere il nostro spettacolo alla Cannoniera della Casa del Boia, a Lucca, il 9 e il 10 settembre.